Non perdetevi questa salsiccia alla birra. Per prima cosa separare le salsicce, poi le mettiamo in un contenitore, mettiamo un cucchiaio d'olio, le bagniamo un po', aggiungiamo la paprika fumitata, l'aglio in polvere, mescoliamo bene bene, mettiamo un paio di cucchiai d'olio in padella, accendiamo la fiamma e quando l'olio si sarà riscaldato un po', mettiamo le salsicce e le facciamo rosolare su tutti i lati per 4-5 minuti a fiamma alta. Mettiamo un po' di rosmarino, poi mettiamo la birra, girando spesso le salsicce, facciamo cuocere a fiamma a media volta per una ventina di minuti senza coprire, finché la birra non si sarà asciugata quasi del tutto. Guardate questo bel succhetto, ora spegniamo la fiamma e andiamo a servire. Mettiamoci pure qualche patatina. Buonissime! Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, io vi saluto e vi auguro buon appetito!